salva tutti amici sono sempre io il ricercatore Emiliano Babilonia in questi giorni stiamo preparando alcuni video ovviamente queste sono delle prove dei test che sto facendo attraverso i programmi di registrazione per vedere se la qualità audio e la qualità video delle dirette rete web che verranno fatte sui nostri canali di youtube e sui nostri canali di facebook possono essere definite plausibili ovviamente sto facendo dei numerosi test con vari programmi per vedere la qualità audio la qualità video e trovare una soluzione per la nostra web tv che verrà creata a Roma e poi creeremo anche la radio web tutto questo verrà creato sempre per la ricerca per lo sviluppo e per le interazioni sociali che noi faremo attraverso i canali web tutto questo lo stiamo facendo per aiutare le persone a fargli capire che il gruppo di Roma e il gruppo che opererà con noi potrà registrare fare delle dirette video delle dirette audio per aiutare le persone per fargli capire alle persone che noi stiamo facendo delle ricerche delle riunioni che stiamo facendo dei test e moltissime altre cose voglio ricordare a tutte le persone che il 10 scusate il 15 16 17 settembre io sarò al parco lonardo all'evento internazionale che stiamo facendo a Roma ovviamente l'evento internazionale è stato effettuato all'interno della fiera esoterica 2017 perché io ho dato praticamente la disponibilità tecnica di poter aiutare le persone all'interno della sala conferenza e loro ci hanno dato un grosso spazio per poter parlare di controllo mentale manipolazioni delle masse eh armi ad energia diretta ad onde convogliate armi psicotroniche e tanto altro eh ho contattato molti amici molti relatori e molte persone importanti eh sia del mondo ehm del cinema mondo dello spettacolo ricercatori eh persone importanti eh che praticamente eh collaboreranno collaboreranno con noi con l'evento e poi collaboreranno anche con noi in seguito con varie altre eh manifestazioni eventi set in eccetera eccetera purtroppo eh alcune persone ci stanno attaccando perché abbiamo creato l'associazione che aiuterà le persone eh praticamente eh a Roma eh stiamo prendendo dei laboratori e dei locali per poter raggruppare più ricercatori e più eventi in un solo eh locale e ovviamente tutto questo lo stiamo facendo con le nostre forze fatevi il calcolo che sono un tecnico per questo mi intendo di eh tecnologie controllo mentale sperimentazioni e tanto altro in questi giorni purtroppo ti attacchi con le frequenze del sul riscaldamento, gli attacchi con le armi ad energie dirette, le persone che mi contattano in continuazione tramite eh tramite mail, tramite i vari social network, tramite Twitter, Google più eh mi scrivono sui miei canali di YouTube Angeli Custodi MKUltra Italia, vi voglio ricordare che Angeli Custodi siamo noi che aiutiamo le persone dagli attacchi dell'MKUltra. Ovviamente eh qualcuno in Altitalia ha detto che noi abbiamo creato l'associazione che si chiama Angeli Custodi MKUltra ma non è così fidatevi. La nostra associazione per primo ehm diciamo la prima ehm cosa importante che fa l'associazione è proprio la ricerca. Attraverso la ricerca noi possiamo trovare delle soluzioni, possiamo trovare delle ehm facendo dei test, facendo delle analisi, possiamo capire quale sono le frequenze che interagiscono con i nostri centri nervosi. è uscito un libro che cita di alcune mie ricerche dell'anima artificiale, della bioaurea, delle frequenze ad onde convogliate eh stiamo creando un film cortometraggio documentario che documenterà le vittime, le testimonianze delle vittime del controllo mentale. Se voi volete partecipare a questo evento, un documentario per la libertà mentale e per la libertà delle frequenze neurali e fisiologiche, contattatemi, ci possiamo vedere o possiamo parlare o possiamo fare dei collegamenti anche tramite Skype perché il documentario dovrà essere fatto per capire o far capire alle persone che subiscono questi attacchi e queste manipolazioni ai loro parenti che non siamo dei pazzi, malati di mente o schizofrenici ma che in realtà subiamo attacchi con armi ad energie dirette e frequenze ad onde convogliate che creano le patologie sul nostro corpo, che creano i disturbi radiocognitivi, che creano le manipolazioni audiovisive perché molte persone che mi contattano che sono disperate, mi sono arrivata addirittura email da tutte le parti del mondo e addirittura da tutta l'Europa, persone disperate che non sanno più che cosa fare e dove andare per difendersi da questi sistemi, da questi attacchi e da queste manipolazioni. Io tutti i giorni, domani ci sarà una riunione molto importante del gruppo di ricerca e dell'associazione di Roma, ci incontreremo alle 10 della mattina con tutti quanti i computer, con le nostre apparecchiature, le nostre attrezzature perché stiamo creando il gruppo tecnico, il gruppo tecnico e scientifico con i laboratori e programmi che inseriremo all'interno dei nostri computer per far sì che tutte le persone del gruppo possano avere i stessi identici programmi così ci potremo aiutare l'un l'altro. In più, sto creando degli analizzatori, ringrazio molte persone che praticamente stanno collaborando con noi anche dall'esterno, ringrazio molte persone che ci sostengono anche moralmente, molte persone addirittura mi hanno contattato e hanno detto lei deve ricontinuare a fare i video, a fare le testimonianze, le registrazioni, la radio web sta andando benissimo. Purtroppo io sono solo e sto operando con determinate sistemi tecnologici, sistemi di pc, programmi, sto creando interviste, sto facendo interviste, interviste testimonianza, interviste video, collaborazioni con molti ricercatori e con molte persone importanti. Ringrazio il regista Varo Venturi che ha voluto la mia presenza durante la sua, praticamente lui farà una relazione sul palco di Esoterica 2017, ma voglio ricordare che noi siamo ospiti nella sala conferenza e Varo Venturi, regista di Seggioni sulla Terra, il film che tratta anche delle ricerche di Corrado Malanga, lui praticamente mi vuole sul palco con lui perché vuole fare dei test con determinate frequenze e vuole che praticamente facciamo una relazione insieme sul palco. Io sono stato molto contento di questo perché Varo essendo una persona molto intelligente, uno studioso e praticamente esperto anche di queste tecnologie, ha voluto proprio che io stavo proprio con lui sul palco. Vi voglio ricordare che l'evento che noi faremo il 15, 16, 17 settembre 2017 gratuito Roma Parco Leonardo. Ci saranno tantissimi ospiti, avremo Paolo Franceschetti, avremo Meluzzi il criminologo, ci sarà Varo Venturi, Mario Cosentino, Elisa Fuxas, la regista del film dell'associazione che parlerà proprio di alieni adotti e tecnologie perché è una cosa molto importante perché l'associazione, io adesso non posso dire il nome dell'associazione ma non è che non lo voglio dire perché voglio presentare queste persone che stanno collaborando anche per aiutare le vittime al controllo mentale, le voglio presentare sul palco perché voi le dovete vedere di persona, brave persone, intelligenti, collaborano, cercano di aiutare le persone, cercano di fare dei studi e delle ricerche perché sono persone che cercano di capire, far capire alle persone che ci circondano quello che sta accadendo. Ovviamente non è facile perché purtroppo se noi avevamo fondi di un certo tipo avevamo la possibilità di comprare subito telecamere a scansione sintetica, telecamere a infrarossi, telecamere spettroscopiche, analizzatori di spettro e tanto altro, oppure telecamere termiche che è una cosa che a noi ci servirebbe perché quando veniamo attaccati con le armi ad energia diretta ad onde convogliate possiamo vedere le temperature sul nostro corpo e possiamo vedere determinate parti del corpo che vengono irradiate con questi sistemi. Ovviamente abbiamo detto, molte persone ci hanno contattato che addirittura ci volevano fare delle donazioni, cioè volevano fare delle donazioni a me per quello che sto facendo, per l'operato, per l'aiuto che sto dando alle persone. Ovviamente fatevi il calcolo che io ho tre canali di YouTube, tre radio web, vari social network, gruppi, pagine. Ovviamente ogni volta che io metto il mio nome su Facebook in giro di poco tempo mi bloccano tutti i canali, bloccano tutte le mie indirizzazioni, quindi sono costretto a operare con altri canali o addirittura gruppi o addirittura nomi di altre persone. Tutto questo ovviamente molte persone mi stanno scrivendo, Alieno Giampaolo mi sta dicendo questo non va bene, lo devi fare il pomeriggio. Ovviamente l'ho fatto questa sera perché è solamente una prova di questo programma inserita all'interno del computer, sto provando questa webcam che sto utilizzando per vedere come riesco a fare i video anche in assenza di luce, perché siccome dovremmo fare anche dei video un po' particolari al buio, perché ovviamente il gruppo studia anche fenomeni paranormali, presenze aliene, studia anche tante altre cose. Però ovviamente noi ci uniamo al gruppo di ricerca per poter svolgere varie attività su vari campi, perché questa è una cosa molto importante. Abbiamo molte persone che praticamente si stanno unendo a noi da altri gruppi, da altre associazioni, che sono cose molto importanti per creare determinati gemellaggi. Abbiamo la possibilità poi in domani di creare dei laboratori fissi e poter poi invitare le persone che magari si vogliono associare all'associazione per farli venire con noi, quando faremo le ricerche, quando faremo i test, quando faremo le analisi, quando faremo praticamente delle dirette radio web o tv web o radio web. Tutto questo ovviamente è creato per dare la possibilità alle persone che non possono venire direttamente a Roma, ma che praticamente vogliono però seguire le attività dei nostri gruppi. Apriremo questa tv web e questa radio web, solo per l'associazione. in più io porterò avanti sempre i miei canali di YouTube Angeli Custodi MKUltra, Emiliano Babilonia e porterò avanti anche la mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker, poi avevo creato la seconda radio web che era Angeli Custodi MKUltra Italia Spreaker. Adesso abbiamo aperto, io ho aperto un nuovo canale radio su Mixcloud, Emiliano Babilonia Mixcloud, per quale motivo? Perché su Mixcloud abbiamo la possibilità di mettere moltissime interviste senza nessun limite, che è una cosa molto importante. Ovviamente non potremo fare le dirette in tempo reale, come facciamo su Spreaker, però intanto è un ottimo sito di divulgazione per le nostre ricerche e per le nostre analisi che noi faremo e per le nostre interviste. Saranno presenti all'evento anche molti collegamenti tramite Skype, avremo il collegamento con Rosario Marcianò, avremo il collegamento con Mauro Munari, avremo il collegamento con il professor Paolo Cioni che non sapeva se riusciva a venire a Roma per quei tre giorni perché è molto impegnato, avremo altri collegamenti con persone molto importanti, forse un collegamento a sorpresa ma ancora non sappiamo niente con il professor Corato Malanga, ma ancora non abbiamo definito questa cosa perché purtroppo il professor Corato Malanga sta fuori per impegni di lavoro, per le sue ricerche e ancora per il libro che sta scrivendo, poi ha molti impegni. Quindi non sappiamo se farà questa diretta tramite Skype, però abbiamo quasi 40 relatori molto importanti, abbiamo una sala armonica dove noi potremmo stare all'interno e parlare anche tramite i gruppi di ascolto tramite le testimonianze delle vittime all'interno di questa sala. Cercheremo di far testimoniare delle vittime anche sul palco. Abbiamo anche Riccardo, ex poliziotto dei nuclei operativi speciali della scientifica sotto attacco e manipolazione mentale che lui avrà a Roma proprio per fare la sua testimonianza sul palco perché ovviamente lui ha fatto delle indagini particolari e è stato attaccato con questi sistemi. A Remo la possibilità di avere molti ricercatori importanti e molti studiosi di questo campo. Ovviamente noi siamo sempre ospiti dell'evento della Fiera Esoterica 2017. Io ringrazio gli organizzatori della Fiera che ci hanno dato campo libero e ci hanno dato la possibilità di gestire e di parlare attraverso il convegno nazionale che verrà fatto sempre a Roma 15, 16, 17 settembre e ci hanno dato la possibilità di poter promuovere sia l'associazione di Roma sia i nostri eventi. Il libro che è uscito in questi giorni proprio che parla del controllo mentale dove c'è la mia testimonianza, la testimonianza di una signora di Roma che ovviamente ha mandato oltre 70 email allo scrittore, alla fine lo scrittore ha dovuto mettere per forza una sua testimonianza. Si parla di altre vittime, ovviamente lo scrittore mi ha detto alcune di queste vittime non le ritengo proprio plausibili o vittime che praticamente possono essere giudicate reali vittime di attacchi con armi ad energia diretta perché molte di queste testimonianze sono state fatte su questo libro sembrano di persone malate di mente però io ho detto guardi alcune di queste vittime che hanno dato la loro testimonianza effettivamente sono vittime attaccate con le armi ad energia diretta non deconvogliate perché io ero presente mentre le attaccavano rilevavo le frequenze anche sul mio corpo. Allora lui ha dato la conferma di via libera di mettere anche la loro testimonianza. Ovviamente alcune persone credono che siano vicini di casa, alcune persone credono che siano i parenti, alcune persone credono che siano altre persone che li circondano ma in realtà l'arma è molto semplice. Un elettroencefalografo trasgranico che opera attraverso una modulazione di frequenza che rigenera le patologie attraverso una mappatura cerebrale distorta sul nostro corpo e giochetta è fatto. Ovviamente tutto questo cercheremo di proporlo e di far capire all'evento del 15, 16 e 17 settembre quello che praticamente noi abbiamo scoperto attraverso le analisi, attraverso le ricerche, parleranno dei ricercatori, parleranno delle persone importanti che ovviamente diranno la loro. Purtroppo non siamo riusciti a far venire all'evento lo scrittore del libro perché lo scrittore del libro purtroppo ha un'associazione molto importante che sta in Altitalia e questa associazione è stata un po' minacciata da persone poco consome, cioè da persone poco raccomandabili e quindi lui mi ha detto che non voleva spostarsi dalla sua città perché praticamente aveva poi paura di ripercussioni da queste persone. Per adesso vi saluto a tutti amici, divulgate questo video, divulgate le ricerche che sto facendo, divulgate anche questo primo libro che parla delle mie ricerche e delle testimonianze di alcune vittime del controllo neurale e controllo mentale. Vi aspetto tutti a Roma al 15, 16, 17 settembre 2017, evento gratuito, tre giorni di evento gratuito. Ovviamente io sarò presente tutti i tre giorni, cercherò di aiutarvi e di starvi vicino e di parlare con le persone che verranno all'evento. Ovviamente non è facile farlo perché immaginate all'interno di una fiera, nazionale, che saranno presenti tantissime persone, parlare con relatori, con ricercatori, con le vittime, dobbiamo fare le registrazioni, avremo addirittura la sala stampa per le interviste con i relatori, addirittura per le interviste anche con le vittime se vogliono essere intervistate, faremo anche delle interviste anonime se vogliono essere intervistate. Cercheremo di fare tutto il possibile per aiutare le persone. Ovviamente tutto questo lo stiamo facendo per titolo di divulgazione che è una cosa importante. Alcune persone mi hanno scritto delle email che vogliono donare al mio gruppo di ricerca delle strumentazioni. Noi siamo bene accetti, cioè, se ci volete donare delle strumentazioni che potrebbero essere idonee per le nostre ricerche, mandateci almeno un'email su vittime al controllo neurale.gmail.com e dici che tipo di strumentazione voi avete. Magari strumentazioni possono essere microfoni ambientali, microfoni a connessatori, potrebbero servire anche delle strumentazioni un po' particolari, oscilloscopi, misuratori di campo, potrebbero servire anche una telecamera termica, visto che si parla di donazioni, se avete queste strumentazioni, delle telecamere che possibilmente in HD che possano essere utilizzate poi per fare delle riprese all'esterno o all'interno. Tutto ciò che potrebbe essere utile per la ricerca tecnica e scientifica. Alcune persone mi hanno contattato, mi hanno detto ma noi vi vogliamo dare una donazione. Quando venite a Roma potete venire direttamente da me e se volete dare una donazione la potete fare. Ovviamente noi utilizzeremo questi soldi ovviamente della donazione o queste attrezzature per scopo di ricerca e di aiuto per le vittime del controllo mentale. Perché noi facciamo ricerche analisi, analisi celebrali con l'elettroencefalografo. Cercheremo di fare, di creare una gabbia di faratai per schermare determinate frequenze dall'esterno per vedere se si attenuano determinati disturbi all'interno del corpo, all'interno del cervello delle persone. Cercheremo di creare delle schermature o attestare schermature più idonee per alcuni tipi di patologie, alcuni tipi di attacchi con le armate di energie dirette. Faremo tantissime cose ovviamente. Però per fare tutto questo ovviamente è impossibile farlo in breve tempo perché ci vorrebbero talmente tanti soldi e talmente tante attrezzature, talmente tanti analizzatori, vari tipi di computer che diventerebbe impossibile per noi avere un budget di denaro così elevato e fare tutto in breve tempo. Perché noi non abbiamo sovvenzioni dallo Stato, non abbiamo sovvenzioni da qualcuno. Stiamo cercando di creare proprio l'associazione proprio per poter a livello legale usufruire di eventuali sovvenzioni dal Comune o sovvenzioni dallo Stato o creare dei progetti che possano essere approvati per portare avanti alcuni nostri studi, per portare avanti alcune nostre ricerche, per portare avanti alcune nostre soluzioni. Io sto facendo il progetto della casa antiradiazioni, sto facendo il progetto della stanza antifrequenze, sto cercando di capire quale frequenze possono essere utilizzate all'interno di casa e quale devono essere eliminate utilizzando determinate frequenze in continua, utilizzando sistemi in domotica, eliminando determinati wireless e metterli in determinati posti invece che utilizzarli in altri posti magari dove uno dorme, dove uno staziona durante la notte. Stiamo facendo di tutto. Siete tutti invitati all'evento gratuito. Io chiedo solo una cosa a tutte le persone che verranno a questo evento, alle vittime che verranno a questo evento. Quando venite da me ci dobbiamo dare un abbraccio perché questa è una cosa fondamentale, perché io voglio sentire il vostro corpo e le vostre frequenze, perché noi dobbiamo rimanere uniti per creare una sorta di scuto che ci deve proteggere da questi sistemi deviati, da questi sistemi disumani e da queste torture fisiche e psicologiche. Voglio ricordarvi anche una cosa, è stata approvata la legge che tutela le persone torturate sia fisicamente che psicologicamente. Adesso stiamo cercando di trovare una soluzione per fare una denuncia che deve essere portata direttamente agli uffici primi atti della procura di appartenenza e tutti lo dovremmo fare lo stesso identico giorno e le stesse identiche ore. Per far sì che le persone che ricevono all'interno delle procure questa denuncia devono sapere che in tutte le altre procure nazionali molte vittime attaccate con queste armi e con queste tecnologie hanno portato tutti quanti la stessa identica denuncia allo stesso identico giorno e per far capire che non siamo pazzi, non siamo malati di mente, ma veniamo sottoposti ad torture fisiche e psicologiche per sperimentazione e collaudi di armi all'energia diretta ad onde convogliate che deviano la realtà cosciente e manipolano le nostre frequenze fisiologiche. Perché questa è una cosa importante. Se noi non creiamo una sorta di difresa, una sorta di trincea tra noi e queste persone deviate non riusciremo più a uscirne fuori da questo olocausto neurale e sempre di più questi ci attaccheranno, sempre di più questi ci manipoleranno e non avremo più la possibilità di difenderci da questi attacchi. Ma se ci uniamo tutti quanti insieme e tutti denunciamo la stessa identica cosa e tutti denunciamo con la stessa identica modalità e lo stesso identico giorno, avremo la possibilità un indomani di dire io ho fatto la denuncia, sono stato attaccato, torturato in tutti questi anni con questi tipi di tecnologie, con questi tipi di armi, con questo tipo di modalità di torture e lavaggi del cervello e nessuno ha mai fatto niente. E se un indomani riscontreranno che noi siamo stati attaccati con questi sistemi e con queste armi e uscirà fuori tutto allo scoperto, avremo un foglio di carta che dichiara che il giorno tot, alle ore tot dell'anno tot, abbiamo portato la denuncia per dichiarare che venivamo o che veniamo attaccati con queste armi ad energie dirette. Non dobbiamo denunciare persone, dobbiamo denunciare tecnologie, che questa è la cosa più importante, è questo che loro non vogliono far sapere. Noi dobbiamo denunciare che veniamo attaccati con le armi ad energie dirette ad onde convogliate sul corpo e che manipolano le nostre frequenze fisiche e psicologiche, deviando la realtà dei fatti e la realtà cosciente del nostro ragionamento. E tutto questo viene fatto per far perdere la credibilità della vittima, la credibilità della cavia umana che diventa consapevole. In realtà noi studiamo il sistema perché noi abbiamo l'intelligenza di capire come funziona quest'arma, come funziona questa tecnologia e loro traggono dalle nostre conclusioni, nei nostri ragionamenti, dai sistemi che riusciamo a risolvere o dalle patologie che riusciamo a deviare sul nostro corpo per creare ancora di più frequenze di manipolazione d'attacco per manovrare, pilotare il ragionamento globale. Ovviamente amici, uniamoci tutti quanti insieme, cercate di venire a Roma il 15-16-17 settembre, così avremo la possibilità di parlare direttamente e avremo la possibilità di darci un abbraccio, che è questa una cosa molto importante. Non dobbiamo litigare, non dobbiamo discutere tra di noi, non dobbiamo creare delle rivalità. Io sono attaccato in un mondo, io sono attaccato in un'altra, a me mi attaccano a questa frequenza, a me mi attaccano a quest'altra. La cosa essenziale è che noi ci uniamo tutti insieme e tutti quanti insieme facciamo la stessa identica denuncia. Un saluto a tutti gli amici da Emiliano Babilonia. Seguite i miei canali di YouTube Angeli Custodi MK Oltre Italia, seguite i miei canali di Emiliano Babilonia su YouTube e seguite anche la radio web Angeli Custodi MK Oltre Italia. Seguite anche il mio blog, vittime del controllo neurale satellitare, blog spot, ricercatori di fenomeni spiegabili nel mondo e satelliti spia. Ovviamente ho aperto questo nuovo, una nuova canale radio che è stato messo su Mixcloud Emiliano Babilonia Mixcloud. Lì faremo e metteremo le vecchie interviste che abbiamo fatto, rimetteremo le vecchie ricerche radio web, rimetteremo tutto ciò che praticamente è stato dovuto levare a forza da Springer perché purtroppo ci hanno bloccato i canali, hanno detto che noi non potevamo mettere più di totte registrazioni, di ore di registrazione sul canale. Allora abbiamo spostato, stiamo spostando in questi giorni le varie registrazioni, le vecchie registrazioni che noi abbiamo fatto, le metteremo su Mixcloud Emiliano Babilonia, radio web ovviamente Mixcloud. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonia.